Sei associazioni di categoria sottoscrivono per la prima volta un protocollo di intesa sugli standard di qualità nel turismo abruzzese. Il decisivo passo in avanti nella promozione e nella qualità dell'offerta e dei servizi turistici in Abruzzo è promosso dalla Federazione dei Professionisti Abruzzesi del Turismo Esperenziale, Federpate Confesercenti, presieduta da Paolo Setta. I rappresentanti regionali delle principali organizzazioni del turismo abruzzese ovvero Federalberghi Confcommercio, FederTurismo Confindustria, Assoturismo Confesercenti, Ciaturismo Verde e Coldiretti hanno sottoscritto con Federpate Confesercenti il protocollo di intesa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Pescara. Noi lanciamo un messaggio chiaro, netto, una nuova linea rispetto ad una visione e ad una missione. Fare bene, fare concretamente e fare insieme. Non dobbiamo più inseguire modelli di regione, di territori che tra l'altro stimolano anche un complesso di inferiorità negli operatori, ma noi dobbiamo essere protagonisti di un modello tutto nostro, di un'idea di turismo tutta abruzzese che si gioca e vince le sfide del futuro sulla connessione, sulla cooperazione e sulla qualità. Si mettono in nero su bianco delle regole, collaboriamo insieme per offrire al turista un prodotto migliore, sicuro, senza quel dubbio che quel tipo di sistema, quel tipo di offerta sia un'offerta che non rientra nei canoni anche fiscali, quindi abusivismo, ma soprattutto con l'opportunità di offrire al turista la qualità. L'importante è combattere l'abusivismo perché questo è un problema in quanto nuoce effettivamente a quelli che invece sono in regola e portano l'Abruzzo in tutto il mondo e nello stesso tempo con questa lotta si riesce anche a elevare un po' la qualità dei nostri consumatori e dei nostri turisti. La pandemia speriamo sia finita, ma la pandemia ci ha fatto cambiare un po' il sistema di vita e anche quello turistico, per cui le gite fuori porta sono molto più importanti e presenti oggi e quindi la nostra proposta con gli agriturismi, le fattorie didattiche e i bed and breakfast sono sicuramente una risposta positiva a questo problema.